l'807 distintivi e spille oltre 115 esemplari questo è veramente interessante Il chez un pezzo, varia oltre 4.1 e spedale Il quizzo e il come si scuseppe Grazie a tutti. Grazie a tutti. Nono stormo Francesco Baracca. Grazie a tutti. 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 Movimento Sociale. Democrazia Cristiano, ovviamente. Questo sia della Fiorentina. Questo è qualcosa di comunista. Milan. Milan. Juventus. Questo dovrebbe essere il vecchio partito monarchico. Questo dovrebbe essere la spillina dell'uomo qualunque. Movimento nato nell'immediato dopoguerra. Partito nazionale monarchico e la fiamma del movimento sociale italiano. Queste invece sono placchette di tipo militare. livello. Addirittura ci sono dei fogliettini dentro, con delle cose scritte, che non voglio aprire. se le aprirà poi il proprietario le balpino c'è di tutto per gli specialisti questo è veramente qualcosa di notevole croce rossa smaltato bianco con il fascetto anche qua questi dovrebbero essere gradi di qualche funzionario ministeriale o qualcosa del genere sempre nell'epoca del ventennio spilline varie e assortite secondo me qua per gli specialisti c'è veramente tanta roba tutte queste vengono da un collezionista palermitano che ha raccolto questa cosa per una vita quindi Grazie a tutti. Non vuole andare al suo posto. Qua è roba della Marina, c'è qualcosa della Lega Navale, aeronautica. Qua per chi fa divise, ricostruzioni... di divise, militari, c'è veramente di tutto.